Alla fine della strada che si addentrava in una selva di querce e lecci, si apriva una piazza rotonda con al centro una fontana di pietra chiara, la cui acqua zampillava dai seni di una sirena fusa in bronzo e fluiva poi tra il minfee dove nuotavano grossi pesci colorati. Sulla sinistra una rimessa lasciava intravedere le sagome di alcune vetture sportive d'epoca e a fianco il radiatore luccicante di una limousine. È lo stralcio tratto dal libro che vorrei porre alla vostra attenzione oggi. Il libro scritto da Lucio Sandon o Sandon come dirsi voglia dal titolo La Morte Nera, edizioni Progetto Cultura di Roma. Il libro è un giallo, è un thriller, ma andiamo per i gradi. Cos'è La Morte Nera? La Morte Nera è stata l'epidemia più virulenta, più aggressiva, che si è abbattuta in Europa nel 1348 e che ha determinato un numero esorbitante di morti. Tanto che alcuni hanno sostenuto che la fine del Medioevo è stata velocizzata dall'arrivo di questa pestilenza e di conseguenza ha velocizzato l'inizio di quello che poi è stato il Rinascimento. Ci troviamo quindi in presenza di un virus, un virus contenuto in alcune boccette che non si trovano più. Sono state trafugate da un laboratorio presente a Portici dove anche la biologa che lavorava all'interno di questo dipartimento di biologia non si trova più, insieme al suo fidanzato Meno. Per cui il padre di Brunella della Riffa, noto imprenditore conosciuto sul territorio, fa di tutto per ritrovare l'amata figlia. E come lo fa? Rivolgendosi alle forze dell'ordine, in particolar modo a un ex ispettore in pensione. Un ispettore un po' particolare. Angelo Aquilani che si trova sull'isola di Capri per godersi il periodo estivo, ma che è tirato per i capelli all'interno di questa indagine della quale inizialmente non vuole assolutamente sapere nulla. Accanto a lui il maresciallo Pinto e addirittura un colonnello, il colonnello Rosatelli, che coinvolge il maresciallo e l'ispettore in questa indagine. Più che altro li costringe, ma chi leggerà il libro scoprirà anche le motivazioni di questa forzatura da parte del colonnello. Possiamo rivelare poco sulla vicenda perché indubbiamente entreremo in quella che è la storia e quindi in un certo qual modo preveremo il lettore della scoperta di tutti i vari passaggi. Ma possiamo sicuramente fare qualche considerazione. Il libro è molto gradevole perché consente di intrattenersi con i tre personaggi poc'anzi descritti e anche di entrare in contatto con tutta una serie di personaggi davvero interessanti che rappresentano un'umanità che è facile incontrare vivendo in questa nostra epoca così particolare. C'è una sottile vena canzonatoria che caratterizza in particolar modo l'ispettore Aquilani ed è divertente seguire le sue considerazioni, il suo percorso e anche il rapporto che instaura con i personaggi che di volta in volta entrano in contatto con lui. C'è anche una sorta di disincanto nel raccontare questi personaggi, disincanto tipicamente partenompeo di cui il nostro ispettore Aquilani è sicuramente un esponente particolarmente preciso. C'è quindi molta ironia in questo libro anche nel momento in cui si affrontano situazioni che determinano la morte dei protagonisti che di volta in volta si affacciano in queste pagine. Quindi diciamo che la lettura di questo libro è una lettura gradevole perché dà la possibilità di entrare in contatto con una realtà, quella di una ricerca di verità che fa sì che il lettore si senta direttamente coinvolto. Infatti la mia sensazione non è stata quella di leggere qualcosa che riguardava i personaggi ma avevo la netta sensazione di trovarmi anch'io a percorrere cunicoli, strade. Altro elemento importante di questo libro che vorrei sottolineare. L'autore riesce a integrare, miscelare perfettamente la fantasia con una certa curiosità storica per i luoghi. Infatti man mano che la trama si presenta, si svela al lettore, si ha la possibilità di scoprire piccoli particolari che appartengono alla storia dei luoghi che sono raccontati in questo libro. I luoghi sono Napoli e i paesi limitrofi, quindi San Giorgio, il Corano e Portici. E si potrà scoprire, e non voglio assolutamente spoilerare, termine di battuto, c'è chi piace e chi non piace, ma noi oggi lo utilizziamo. Non posso e non voglio spoilerare nulla di più perché è bello scoprire lentamente tutto quello che avviene. C'è anche un alone di mistero. Infatti il nostro ispettore rimanda a un libro che Sandon ha scritto precedentemente, nel quale il personaggio di Angelo Aquilani è presente e in cui si faceva direttamente riferimento al personaggio storico di Annibale. E in questo libro, seppure libro diverso, ambientazione diversa, c'è un riferimento ad Annibale ed anche a una divinità, quella che per i cartaginesi era considerata la divinità della luna, ma che nella concezione del nostro autore è l'incarnazione del male, quindi la dea Tanit. Insomma, un libro dove c'è tanto e molto di più e quindi consigliavo la lettura di questo bel libro giallo, ma che oltre all'essere giallo ci rappresenta un'umanità molto variegata e ci consente anche di confrontarci con il nostro disincanto e il nostro essere parte di un mondo davvero particolarmente strano. Alla prossima!